guardate che bella musica che abbiamo oggi, una musica particolare, guardate che bel giubbettino tipo escape 650 con lo stesso coloro del casco, ma anzi andiamo a farci in giro come avete visto abbiamo cambiato giacca è una giacca normalissima non è giacca da moto, la uso solo per i giri brevi della zona, adesso andiamo a fare colazione, poi devono farmi delle commissioni, ma so che alle due dovrebbe piovere, spero prima perché allora ho messo la giacchettina molto fica molto molto ma molto escape stessi colori ma perché no ma perché no ma perché no, quindi andiamo a fare colazione e ci sentiamo dopo comunque abbiamo anche l'antipiosa dietro, non si sa mai, gli specchetti vanno bene, gli ho messo un gomino non so se si vede qua dentro per fermarli perché ogni tanto si muovevano quindi fanno un po' da blocco perché avendo tolto il peso e altre cose con questo evito la vibrazione del specchietto mi farò vedere come per evitare la vibrazione del specchietto che è molto meglio anche perché così non vibrano più adesso non vibrano proprio più, ho provato, ha 66 allora non vibra e vanno bene comunque mi piacciono molto questi specchietti prossimamente, prossimamente per voi e anche per me perché così me la goderò una moto molto molto più leggera una moto naked naked come dovete chiamare NK naked basta togliere un po' la frase e un 800 molto ma molto sportivo molto full optional ma questa sarà la sorpresa che vedrete nei prossimi mesi mesi perché adesso no però andremo a provarla e sicuramente la prenderò già ne ho tre prenderemo anche la quarta giusto? beh vado a fare colazione ci vediamo dopo speriamo che abbiano le ciambelle abbiano le ciambelle speriamo sì speriamo andiamo al vecchio forno San Zenone qua fanno le paste buonissime che bello tutto rosso sulle vetrine vediamo se faccio una ripresa come sta? sta bene? sta bene? abbiamo anche i spettatori bella moto che bella moto un po' lì abbiamo prendo la briozza e la soglia da fuori mi sono dimenticato i guanti perfetto prendiamo i guanti prendiamo i guanti come vedete come dicevo ho la nuova misa spero vi piaccia andiamo giù il corpo e il sole perché c'è tanto sole e oggi tantissimo sole è una roba assurda mettiamoci i guanti per la nostra sicurezza con la S e non con la S mi dice Sabrina io la pronuncia con la S purtroppo non so perché sarà un problema di pronuncia che ne so io caduto quanto chiamato chiamato la parolaccia accendiamo il motorone comunque vi stavo dicendo a breve un nuovo mostro un altro un altro mostro ancora che cazzo si un altro mostro un altro bello mostro ce l'ho messo più da nessuno comunque sono veramente stupendi questi specchietti sono veramente molto belli molto belli molto belli un po' storta sta le camera la un po' di salva mi sembra ha fatto 5 euro al giorno beve come una porca allora il portafoglio ce l'abbiamo soldi anche andiamo a fare il giro eh si un'altra bella motoretta 800 cilindrata più di 100 sui 100 cavalli molto leggera pesa molto meno di questa ma è molto più sportiva è una naked e vedrete che bella motoretta lasciamo perdere il Ducati 999 lasciamo perdere il V4 che è a casa non in particolato perchè lo tengo come reliquia reliquia bla 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 reliquia quanto che ci so potrei farmi una foto ma e Murini rimarrà in pausa forse per l'estate mi sa che va a piovere tra poco quindi prenderò l'auto per andare a fare due o tre commissioni quindi mi raccomando iscrivetevi al canale perchè se lo iscrivete al canale vengo ogni casa ogni casa no sto scherzando ogni casa no non sto scherzando no sto scherzando a fare clic al posto vostro a fare clic al posto vostro che è importante eh perchè mi andate sul canale e così potrò fare più video ma anche perchè è importante che mi mettete anche mi piace perchè ne vedo pochini pochini e pochini quindi andiamo una tiratina e andiamo a casa perchè vedo tanto brutto tempo vai siamo a secco acceleremo lo stesso così scarichiamo un po' di resina wow che bella sta giacca mi si gonfia tutta mi sembra essere un dirigibile dirigibile e il volante dove vai? se la faccio arrivare alla casa 30 metri madonna non ce la faccio 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 ma devo togliere anche il pinlock perchè mi sono dimenticato di toglierlo adesso non è più inverno quindi bene ciao al prossimo video mi raccomando ragazzi ciao